Ciao Morino, come stai? Tutto bene? Stai giocando? Ma ha detto qualcosa? Ehi, vieni a sentire, ha detto qualcosa. Vieni, vieni. Dai, di qualcosa che ti faccio una diretta su Facebook. Dai, di qualcosa. No, niente anche oggi. Hashtag ma è una gioia. Cosa hai detto? Cosa hai detto, piccina? Cosa hai detto, mamma? Ma no, non l'ha detto papà, ma chiaro. Ha detto papà, ma l'ho sentito, l'ho sentito. No, no, sta tutto il giorno con me, ha detto mamma. Non è vero, forza. Non è vero. Ma sì. Ma ascoltala, ripeti. Ma cosa è che sta guardando? Forse sono sporco? Ma no, sta guardando... Non lo so. Ma che strano. Vio. ... ... ...